Credo, ma, per favore, ma la smetti di stare qua fianco a me così, cioè ti senti... Guarda, timida, rimettiti giù, timida, guardalo, 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 vai. Scusa, Steph. Scusa, Steph. Che è successo? Perché vi ha sparato? Dalla sua faccia presa entrambi. E ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E sono Steph, e che seggi chiama venerdì 13. E siamo tornati su questo gioco, e Steph, muoviamoci, muoviamoci, perché se no qui ci ammazzano tutti. Non facciamo un intro lunga, non è una buona idea. Allora, quest'oggi vogliamo riuscire a vincere una partita online come sopravvivitori, sì, è il nome che ormai ho deciso di dare a tutti i personaggi che devono sopravvivere a Jason. Abbiamo due piani in mente, quindi ne proveremo due diversi, fin quando non riusciremo a vincere, o perlomeno ci proveremo recentemente. Ci proveremo. Il primo è non farci mai notare da Jason. Abbiamo messo, diciamo, un personaggio e dei perks che ci permettono di fare il meno rumore possibile. Esatto, esatto. Di essere il più introvabili possibile, e quindi cercheremo piano piano di muoverci in giro per la mappa e di fuggire in qualche modo. Il secondo piano sarà totalmente l'opposto. Ci armeremo in tutti i modi possibili. Partiremo con una mazza da baseball, con dei petardi, con la mappa, eccetera, eccetera, e cercheremo di vincere andando fisso a dar botte. E io infatti non vedo l'ora che arrivi il secondo piano. Lo sappiamo. Te lo dico, questo lo sto facendo per accontentarti, perché io vorrei andare solo a pestare. Anche se poi non so se è una buona idea, forse è meglio stare molto nascosti. Lo scopriamo, li proviamo entrambi, quindi scopriamo quello è il più efficace. Allora, io sono molto vicino ai bagni, quindi se mi vuoi raggiungere, ci troviamo ai bagni. Ti stai muovendo a covacciata, Fere? Non proprio. Vabbè, stanno ci mettevo due ore ad arrivare. Fere, devi essere calma. La calma è la virtù. Allora, mi fa venire il nervoso muovermi a covacciata. Anche a me. Perché sei stralento e mi fa venire il nervoso. Non so, dalle una spinta, però... Oh, è Jason dietro. Davvero? Sì. Stai scherzando? Se sei quello che sta arrivando ai bagni è Jason dietro. Fere, ma dove? Dietro, l'ho visto nella mappa. Forse ha cambiato in questione. Ah, ok, sì, 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 sì. Perché non ti ha visto. Non è una buona idea, Fere. Ormai sono dentro. Eh, ma Fere, non è una buona idea. Lo vedi? Dove? Eh, ce l'ha con me. Come ce l'ha con te? Eh sì, ce l'ha con me. Ma come, scusa? Non hai detto che non ti doveva vedere in nessun modo? Quella era l'idea, Fere. Però poi l'esecuzione è andata in un altro modo, a quanto pare. Le idee sono sempre belle. Le esecuzioni un po' meno. Esatto. Quello sta alla base. Scusate, buongiorno. Posso unirmi? Beh, vengo qui, vengo qui. Vi porto... Ma sono entrato e un tizio ne è uscito. Hai capito che porto male, guarda. Anche secondo me. Anche secondo me. Se io non ho nulla per difendermi, perché ho fatto il piano per non farmi mai beccare da Jason, parto dopo due minuti e ho già Jason dietro. Fa molto ridere. A me no. Allora, io nei bagni non ho trovato assolutamente niente. L'unica cosa di buona che ho trovato è uno spray. No, no, Fere, 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 Fere. Aspetta. Guarda. Che c'è? Non posso vedere il tuo schermo perché sono un attimino impegnata a non farmi notare qua, Steph. È successo quello che io penso. Che c'è successo? Ma teoricamente questa qua ha chiamato la polizia. Ma davvero? Sì. No, non è partito il timer della polizia, però. Lo so, però lei l'ha fatto. L'ho visto fare, però non è partito. L'ho proprio vista parlare al telefono davanti a me, Fere. Magari ha chiamato qualcun altro. No, no, è un bug, è un bug. Vedi, anche io faccio poco rumore. Avrà chiamato qualcun altro. È come ti spieghi che io faccio poco rumore e Jason mi ha trovato. È proprio perché la partita è buggata, Fere, capisci? Allora, dimmi esattamente dove sei. Nella casa tutta esterna. Vedi, dove sono tre persone ci sono anche io. E dove c'è Jason? Sì, 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 sì. Allora non mi rimango nel bagno. Sì, è la cosa migliore che puoi fare al momento. Io sono un po' più distante, però sto comunque cercando di scappare. Perché vorrei un attimo ridirmi a te, capito? E devo dire che anche correndo piano piano in X faccio relativamente poco rumore. Dimmi che non è radio a me, ti prego. È da me, ok, Fere. Steph, non ho armi. Lo sto portando qua nel bagno. Ma smettila, Steph, vattene. Fere, sono morto, Fere, sono morto, Fere, sono morto. Perché sei uguale a me poi, Steph? Eh, boh, mi piaceva. Perché hai deciso di copiarmi? Fa poco rumore. Ah, eh. Fere, dov'è? Non lo so, Steph, dove sei andato. Ma perché? Allora, io ho solo dei petardi, ti posso aiutare solo con dei petardi. Ok, ok, ma c'erano delle cure in bagno? Sì, due. Mi puoi curare? Ce le ho tutte io. Come ti curo? Credo che puoi. E come? Aspetta perché penso che abbiamo Jason intorno, però non ne sono sicuro. Non so come si fa, Steph. Non lo so, non ti compare un S su di me? Eh, no. No? Aspetta. Ti ho curato? Sì! Ti ho curato! Grazie per... Praticamente devi selezionare l'oggetto quando tu sei con la vita piena. Ok. Quindi su di te non ho affetto e cura i tuoi amici. Allora, io direi di muoverci verso, in alto a destra, in X, per cercare di fare comunque poco rumore. E vediamo un pochettino se riusciamo ad andare in una zona in cui ce la caviamo con Jason. Ok. In ogni caso, io ho un coltello. Quindi, se Jason arriva, cerca di farti acchiappare tu, così poi do un colpo. L'hanno chiamata! L'hanno chiamato! Che ha funzionato! Finalmente! Allora. Non inciampare, Steph, stai attento. Allora, aspetta. Il piano cambia totalmente. Dobbiamo andare in basso a sinistra, vicino al posto della polizia. Esatto. Nasconderci in un posto introvabile. Aspettare i cinque minuti e scappare via. Certo che se riusciamo a trovare un'arma per te... Steph! Eh. Posso uccidere questo con noi? No, Fere. Perché? Cioè, certo, fare un muore mi sta dando fastidio, però... Sta correndo, cioè noi stiamo facendo... Allora, Steph, io non li sopporto quelli che giocano, eh. Te lo dico chiaro e tondo che non li sopporto. Devi stare calma, Fere. No, non sto calma, perché se io mi sto impegnando e sto camminando lenta e mi sto pure addormentando mentre cammino lenta e questo corre, non serve a niente. Lo so, Fere. Però guarda che bella mazza da baseball, così ti calmi un po'. Vieni. Adesso gliela do in faccia. No, Fere. No, lo uccido, lo uccido, Steph. No, 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 no. Prendi la mazza. Ma me l'hai terruvata. Davvero? Io l'ammazzo. Ammazza. Ora hai il permesso di ammazzarlo. Vai. Ah, no, la... Cosa stai facendo? Devi prendere tutte le armi, tu ti stai fermo. Guarda che mi fanno inerrosire. Fere, dagli un colpo. Te ne devi andare. Allora, io... Tu, Lu, tu, Lu, te lo dico, te ne devi andare. Non ti vuole nessuno qua. Siamo due ragazze e non vogliamo un ragazzo, grazie. Sei che tu una ragazza. Cosa? Aspetta, aspetta, aspetta. Mentre... Fere, prendi la mazza. Ok. E mentre piazza la trappola ce ne andiamo. Ok, vai, vai. Via, 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 via. Lo capirà che non lo vogliamo così. Non credo, non credo. No, te lo capirà. Ok, ho scelto la strada giusta, seguimi. Ok, vai. Sempre in X, piano piano. Se notti, noi non facciamo nella minimappa l'iconcina che stiamo rimbombando col rumore. Esatto. Quindi, teoricamente, Jason non ci dovrebbe individuare facilmente. E lo spero. Ok, per le scorse. Allora, quello è rimasto in casa, quindi ok, perfetto. Allora, Fere, dobbiamo aggirare questa zona perché temo che stessi andando ad acchiappare quello che è nel posto del tiro con l'arco. Ok. Quindi stiamo attenti, io mi sto controllando un po' dietro per sicurezza, ma sembra tutto ok. Ok, lo vedi? Avevo ragione, è lì e ha appena ammazzato qualcuno. Ok. Quindi facciamo che ci abbassiamo un attimino e andiamo ancora più piano, va? Vero che scienza. Vediamo come andrà questo qui. Controlliamoci alla sinistra perché magari ci arriva e neanche ce ne accorgiamo, facciamo la figuraccia che davvero ne basta la metà. Sì, esatto, non sono molto sicura, io ti dico la verità. È arrivato il tizio correndo. Fere, bisogna ammazzarlo. No, no. Cioè, ci sta rovinando il piano, ci sta rovinando totalmente il piano. Ma perché si è attaccato a noi? Non lo so. Io non lo so. Ma che abbiamo fatto di male? Vabbè, almeno se arriva Jason cerchiamo di far prendere lui, ok? Ma non c'è lo stesso, sta accendendo anche la torcia. Ah vabbè, però lo possiamo usare come scudo. In effetti hai ragione. Esatto, esatto, esatto. Allora, se sta correndo e facendo un casino incredibile, non mi sembra molto sveglio. Quindi possiamo riuscire facilmente a farlo acchiappare e noi ce ne accorgiamo. È quello che ti volevo far capire. Ok, ma se la smetti di accendere la luce magari... Allora, no, stessi, stessi. Ce l'abbiamo davanti. Eh, lo so, ma questo sta facendo rumore. Allora, siamo abbastanza vicini a dove dobbiamo andare. Tu hai dei petardi, mi hai detto, giusto? Sì, ho dei petardi, una cura e una mazza. Ok, stai ferma. Immobile. Ok. Immobile. Tanto lui più o meno ci sta seguendo, quindi fa quello che facciamo noi. Sta controllando il campeggio davanti a noi, ok? Se adesso lì si accorge che non c'è nessuno, lui si teletrasporta con la mappa, va totalmente da un'altra parte della zona, perché teoricamente ci sono altri... Fere, ma perché mi segna nella mappa che ci siamo solo noi tre? Cioè, tu vedi qualcun altro nella mappa? No. Fere! E abbiamo Jason vicino, Stef. Ma sono fuggiti? Perché li vedo tipo in alta a sinistra nella mappa? Stef, sicuramente l'abbiamo vicino, concentrati un attimo e stai zitto, per favore. Sei sicura? Sì, non l'hai visto lo schermo che si è... No. Eh, perché stavi guardando la mappa, è vicino a noi invece. Davvero? Sì, sì. Ma non lo vedi intorno? Non so dove, ma so che è vicino, perché ho visto l'effetto grafico di quando lui si avvicina. Comunque sì, secondo me, sei cos'è, stavano preparando la macchina, penso che siano riusciti a fuggire in macchina. E perché però non risulta che lo hanno fatto? Non lo so, Stefano. Cioè, è la partita più buggata del mondo. Magari sono usciti dal gioco, non lo so, pensiamo a noi, pensiamo a noi. Però, dannazione, è una fuga in tre rispetto a sette che si dovrebbe essere. Però la polizia arriva tra un minuto, eh, non siamo messi così male. Infatti noi dobbiamo continuare a camminare zitti, zitti così. Esatto. Appena la polizia arriva, dritti correndo. Se ci compare davanti di teletrasporto, ti ripetardi e continuiamo a correre e vinciamo. Allora, per fortuna l'altro ha capito che se sta con noi vince. Sì. Quindi almeno si sta accovacciando pure, lui sta andando piano. Allora. Comunque è stranissimo, ripeto, io ho visto l'effetto grafico di Jason che si avvicina a noi. Lui ci sta cercando? Non l'ho visto. Allora, il mio piano sta funzionando, perché lui ci sta cercando in tutta la mappa. E non c'ha ancora visto. Ma dato che noi non facciamo rumore con l'abilità 2, quella per vedere e per avere i sensi migliorati non ci trova e di conseguenza non riesce a fare nulla. Cioè, noi siamo 3 contro Jason quando normalmente si insette e stiamo allo stesso vincendo. Speriamo, speriamo, Steph. Beh, guarda, io ti dico, magari non vinciamo tutti e 3. Steph, 10 secondi e arriva la polizia. Lo so, Ferre. Devi stare calma. Continua a camminare così. Mi sto emozionando. Sinceramente è meglio continuare a camminare piano piano anche perché io non ho la certezza che la polizia arrivi qui. Quindi per ora continuiamo a non fare rumore. E lo so, Ferre. La polizia. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Dov'è? Io sto correndo dritto. Non lo so dov'è. Vai, 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 corri, ce la facciamo. Dietro di noi non lo vedo. Dietro di noi non lo vedo. L'abbiamo fregato. Dai. L'abbiamo fregato. Oh, mio Dio. E si è salvato anche quello che è rimasto con noi. Bravi. Ha funzionato il tuo piano, Steph. Io non ero molto fiducioso, ma ha funzionato. Perché, allora, io quando ho giocato da Jason mi sono reso conto di quanto sia facile trovare le persone che fanno rumore. Però sì, non le trovi. La coppa è grande e se non senti rumori è difficile trovarli. Eh sì. E quindi ho pensato a tutto questo. È un buon piano per fregarlo. È bello, è bello. È stato bello vincere. Bravi. Sono felicissimo. Sono davvero, davvero felice. Vittoria al primo colpo. Super fantastico. Adesso proviamo a vincere anche facendo le cose a modo tuo. È lì sarà tosta. È lì sarà molto più tosta. Secondo me perdiamoli. Fede? Dimmi. Sei pronta? Allora. Eh, un pochino. Sai come parto? Perché siamo abbastanza lontani. Vai dimmi. Lo so. Però prenditi un po' di cose nelle case e ci vediamo nella zona dell'albergo. Ok, perfetto. Io parto con un mazzo da baseball che ho appena reso macette. Ok. E così, come si chiamano? I petardi. I petardi. E qui lì ce l'ho anch'io, perfetto. Ho trovato la pistola del flare. Uh, bello. Questa stunda bene. Questa mi piace, questa mi piace. Vediamo se trovo anche qualcos'altro. Vedete, questo qua è praticamente il mio piano. Oh mio Dio, non ci posso credere. Ho trovato già il fusibile per riparare il telefono. Ho trovato una cura. Purtroppo mi si è baggato e non ho i petardi, quindi come non detto quelli non ce li ho. Oh cavolo, ci sono lì vicino. Eh, vediamo un pochettino. Vicino dove, Feria? Allora, ce l'è presente quella casetta? Uh-huh. Alla sinistra dell'auto dove ci sono due persone. Ok. L'ho visto lì di fronte. Ok, perfetto. E quindi io mi sono accovacciata e sto evitando di andare lì perché non mi sono lì. Va bene, tanto è un personaggio che fa pochissimo rumore, quindi fai con calma. Teoricamente pure io, ma non riesco a venire da te perché non so più dov'è. Sei andando nell'albergo adesso? Sei di fronte alla macchina? Sì, esatto. Sei tu, sei tu, arriva, 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 arriva. Ero in un cespuglio, mi vedi. Ah, sei questa? Sì, ero dentro un cespo. Penso a far fare un tizio a caso, sospetto, e scopro che sei tu. Avevo paura che ci fosse Gesù, l'ho visto in zona e quindi ti ho aspettato dentro un cespuglio. Mi sembra giusto. Allora, io non ho ancora... Uh, ma c'è il fu... No! Ferè? Allora, Stef, è successo una cosa brutta. No, una cosa ancora più brutta, sai qual è? Che io ho visto un fucile nel divano, è arrivato un disgraziato e me l'ha rubato. È ancora peggio di prendere una trappola, questo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, soprattutto perché comunque, secondo me adesso ci trova, perché siamo in quattro nell'hotel, direi che non possiamo stare troppo tranquilli. Allora, vieni a fare il telefono, io se non ricordo male, è qui dentro il telefono, dovrebbe essere qua. Ma sai che io non lo vedo? Che c'è Ferè? Allora, non l'hai visto? No. Si sta avvicinando Jason. Sicura? Sì, ho visto lo schermo che mi faceva csss. A me non ha fatto csss fare. A me non ha fatto csss. A me non ha fatto csss, quindi sta avvicinando. Mi spiace. Ti stai sognando csss. No, no, c'è stato un csss. Eh, state fermi. Sei sicura? Perché correte dentro casa e dovete rovinare tutto. No, anche io sto correndo, Ferè. Questa è la partita a cattivi, non è la partita. Ma è colpa tu, allora. Sì, 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 è colpa mia. Ma perché questa non è più la partita a stare nascosti. Qua bisogna far casino, bisogna spaccare la faccia a Jason. Oh cavolo, oh cavolo, ma siete pazzi? Che c'è? C'è Jason in una stanza. Buongiorno. Ferè, dobbiamo scappare, è lo stordito. Vieni veloce di sotto. Io mi lancio dalla finestra. Sicura? Eh sì. Ma poi? No, non credo. Ok, sì, ti vedo. Sto scendo dalla finestra, eccomi, eccomi, eccomi. Cerca di non fare rumore, perché tanto ce l'ha con un altro tizio in questo momento. Però ci dobbiamo anche allontanare. Quindi cammina piano piano mentre allontaniamoci un po' dall'hotel. Perché ovviamente Jason tornerà in questa zona. Ma com'è fatto a entrare zitto zitto in casa? Non lo so. Stavo controllando le stanze di sopra, perché sapevo che nell'albergo, nelle stanze di sopra, c'è il telefono, che invece non c'è in questo caso. Lo vedi, dove è? E l'ho trovata dentro la stanza. Lo vedi? Ma ti sembra? No, non lo vedo. È lì che sta cercando di ammazzare quel tizio. Ok. Ferè sta venendo verso di noi quel tizio. Ma, ma, no, vado. Vabbè. Lo uccido io da parte di Jason, ho capito. No, Ferè. Ho capito. No, 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 ormai. Ma lui adesso arriva qua e mi prende, perché siamo quelli che... Ferè. E vedi che... Corri, 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 corri. L'ho preso, Stef. No, io non ho armi. Ferè, non ti posso aiutare. No, io te lo dico, Stef. La prossima partita che facciamo... Ok. ...se avvicina qualcuno e mi giro e lo uccido. Perché è la seconda volta che muoio per colpa di persone che si avvicinano a me. Cioè, ti sembra? Ti sembra giusto? Lo so, Ferè. Sì, sono morta, ok? Adesso uccidilo, uccidilo, vendicami. A chi devo uccidere, Ferè? Quello vicino a noi. Dai, ma mi hanno riseguito in due. Ma lasciatemi luttare una casa. Allora, era uno vestito come te. Quindi non questo, ma l'altro. E tu lo devi uccidere. Secondo me era uno da nerd. Come personaggio. Non lo so, ma lo devi uccidere. Perché sono arrabbiati. Sempre io ci passo poi accidenti a loro, guarda, eh. Credo... Ma... Per favore, ma la smetti di stare qua fianco a me così? Cioè, ti senti... Guarda, timida. Rimettiti giù, timida. Scusa, Stef. Scusa, Stef. Che è successo? Perché vi ha sparato? Dalla sua faccia presa entrambi. Io ho ragione a ucciderli, eh. Io l'ho detto. Consolini, io l'ho detto. Perché poi succedono ste cose, vedete? Succedono ste cose. Cioè, comunque è stato bravo. Con un colpo vi ha preso entrambi. Cioè, è stato... È stato emozionante. Io ridendo col tipo che ti imitava, invece, guarda che è successo. Ci sono rimasto malissimo. Eh, pure io. Spero che se riuscite, sentite un bel like. È la prima volta che vi ho detto il nostro video. Potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie.